Auguri! 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 Oggi sì, oggi è una grande gioia, oggi per noi è veramente una grande gioia. La bella Ambriana oggi ha colpito, non è la prima volta. Diciamo che noi sulle vincite ci difendiamo, ma questa è fenomenale, siamo contenti davvero perché la somma è importante. Cambia la vita, cambia la vita. Ovviamente no perché questa è una zona di passaggio, turistica, una zona frequentata, quindi sicuramente sarà stato qualche giovane, qualche casalinga, qualche turista, quindi non sappiamo. Non sappiamo e questa cosa ci fa ancora più piacere perché la bella Ambriana colpisce dove vuole. Cosa ha pensato quando ha saputo che ha proprio acquistato una legge? Bellissimo. Noi giochiamo per dare delle vincite, a noi piace proprio. A noi il fatto di dover dare delle vincite, di dare felicità perché adesso questa persona sarà sicuramente felice. Ci rende anche noi belli, vivi. Lavoriamo per questo fondamentalmente. Io spero, spero, perché è entrato in un modo e ne è uscito in un altro. E a te spero che non si dimenticherà. Spero, spero che si ricordi che questa bella Baccheria ha dato una gioia enorme perché lui cambierà vita, sicuramente cambierà vita. E ci fa piacere. Speriamo che sia un napoletano che possa aiutare un pochettino questa situazione anche qui delle zone, quindi sicuramente speriamo che possa fare solidarietà e aiutare persone che ne hanno bisogno perché la cifra lo permette.